Ho messo al contrario, mi rifiuto. Siamo qua, Francie. Siamo qua, Francie. Siamo qua, Francie. Adesso, adesso, adesso. Adesso. Dai, rinoccio, su. No, no, no. Dai, ripetiamo. Hai visto che ti basta? Dai, Ria, rinoccio. Assegna, Assegna. Guardate, andate. Andate pure. Passate, due là, una che si stacca. È il nostro, è il nostro. Ed è il nostro. Guarda, Signora. Grazie. è tu Giorgio è tu Giorgio non bollare bravo non bollare uno uno prego prego Giorgio non ti fa superare bravo prego 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 Mianca un bel il Vittorio 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 Grazie. 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 Bisogna giocare con la squadra, è quello che ci manca. Guarda che palla, guarda che palla è data qui. Noi abbiamo 7 giocatori che girano, gli altri se il risultato ce lo permette. Noi siamo tutti bravi, però sono 7 giocatori che girano. Noi siamo partiti con questo obiettivo che fa giocare a tutti quanti. Ci fanno anche perdere. Però devi calcolare pure durante la stagione di infortuni, le malattie. Valerio. Ah, Simone. Ah, sì, Simone riposato. Pure Catapallo, noi abbiamo Catapallo. Noi abbiamo Catapallo. Stai male. Stai male! Stai male, a tutti. È possibile, eh? Non so parlare di bucana di strano, bro. Spogli di bucana dunce. Stai male! Stai male! Stai male un po! Stai male! Stai male! Stai male! Stai male! Grazie. Massimiliano. Max. Max. Non capisce che se passa la palla è più deleterio di quando fanno azione. Fai girare questa palla. Prega uno per noi. E ora il secondo tempo stiamo a giocare più. Ruggiamoci, prendiamoci! Ruggiamoci, prendiamoci. Ruggiamoci! Ruggiamoci 10-9. Ruggiamoci 9. Ruggiamoci. Ruggiamoci 9-6. Ruggiamoci 10-50, prendiamoci 10-50. Ruggiamoci 5-90. Bravo, defenderci. Oh! Oh, come? E' giocato. Eh? Già strato. andavano gli avversari però lo sapete non sto a giocare meglio sono ripresi mi sto inghiacciando c'è sì o è c'è? fa pure di ripresi la telegama c'è sì e c'è lecce non è nessuno cazzo non è nessuno cazzo è serio? a mezzo metro 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 non ti voglio farci andare siamo passati i 10 metri siamo passati nella stanza di più la vaga sali tutti a mezzo metro 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 Esci di gol! Esci di gol! Esci di gol là! Guarda che tagli! Dai! Segui Angelo, segui Angelo, segui! Andiamo la mano! Dai a lei! Dai di gol! E' nostro! E' nostro! E' nostro! Quello! Guarda che attacchi, attacchi, attacchi! Segui Angelo! Gli attacchi! Guarda che attacchi! Gli attacchi! Gli attacchi! Grazie a tutti. 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 a tutti.